buongiorno a tutti eccoci qua ancora una volta su lega nerd per parlarvi di questo capitolo 11 ovvero il terzo episodio della seconda stagione di the mandalorian allora cosa consiste questa puntatina in questo video per chi non ci segue insomma vi spiegherò un attimo velocemente vi racconterò le mie impressioni una piccola recensione molto veloce ma ci concentreremo un po di più sulle varie curiosità ora considerate l'ho visto un paio di volte da stamattina e sto cercando tutti i momenti morti per cercare più dettagli possibile da raccontarvi ma ahimè insomma bisogna veramente scavare tanto per trovare le uova di pasqua e le curiosità e quello è quel tipo per cui insomma più o meno superficialmente vi dirò le mie sensazioni allora innanzitutto la puntata si chiama le rede è molto interessante già un po ci fa capire qualcosa a cosa molto importante spoiler attenzione spoiler non è un massiccherino però ma qui andiamo giù pesante per cui se non avete visto la puntata e se non vi interessa questo video andate oltre ve lo dico in tutta serenità per cui si va alla ciccia già vi ho spoilerato il titolo ma vabbè è poco 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 comunque le rede allora questa puntata mi ha stupito molto nonostante abbia un grandissimo problema cioè è troppo corta è veramente troppo corta dura poco più di 30 minuti 35 minuti velocissima velocissima in tutti i sensi perché non rallenta neanche un po va dritto al punto torniamo finalmente per molti a me andava bene anche come erano gli altri due episodi a parlare un po di più della trama principale per cui si torna in questa orizzontalità che tanto viene cercata nonostante tutto è comunque una puntata tra virgolette sensatamente filler e per questo sta piacendo molto anche ai detrattori a meno a qualche amico che bramava per vedere per continuare a capire questa storia di baby Yoda da chi va portata e via dicendo ecco li ho sentiti molto molto contenti per cui questo vuol dire che si può fare anche una puntata verticale pensando pesantemente alla trama orizzontale per cui ben venga ecco molto bene allora si parte si arriva a questa luna di Trask mi sembra sì Trask moon roba del genere però questo pianeta mamma mia un furgoncino anni 50 meraviglioso non c'è niente questa luna marittima non mi ricordo mai come oceanica insomma tutto mare bellissima di Trask in cui arriva questa resort crest completamente distrutta stanno per atterrare ma essendo ormai un catorcio completamente attaccato con lo sputo lui si incassa e torna a dire questa grandissima forse la prima espressionista il primo vigliacca boia puttana eva che viene lanciato nel mondo di guerra stellari che è dank farrick ecco non si sa ancora esattamente cosa significhi almeno non l'ho ancora trovato ma lo ricercherò in questo fine settimana ma almeno sappiamo che dire puttana vai è questo per cui si parte con questo sta per atterrare arriva disastro fuoco casino sapete il classico no l'attrito vi dicendo intanto sotto c'ho i miei appunti perché c'è un po di roba voglio dir che sta arriva a terra disastro fa una cappella che fa molto ridere cade in acqua eccetera eccetera ecco in questo momento vediamo un rivediamo finalmente un moncala mon calamari bellissimo cioè uno della razza di akbar sono tutti molto marroni non come quelli che abbiamo visto in roguan che erano albini e sono molto simili ad akbar e la cosa più bella ed una delle robe più belle che continua a avere questa stagione è che sono tutte maschere prostetiche pupazzetti animatronic e invece che passare di più al digitale come in un certo senso ha fatto nella prima stagione in questa seconda stagione stanno spingendo ancora di più in queste animatroniche a me sta cosa mi fa godere perché si vede di brutto si vede parecchio in questa puntata si vede ancora di più che sono pupazzetti ma questa è una delle grande forze secondo me del vecchio guerra stellari si arriva andiamo dunque perché sennò veramente ci mettiamo un botto prima di atterrare sentiamo la voce della di chi gestisce il porto di ingresso di questa luna di mi sono già dimenticato e la voce in inglese di trask la luna la voce in inglese è di bryce dallas howard che qualcosa vorrà pur dire ma ne parliamo alla fine bene a terra eccetera eccetera lui è logicamente con lady frog deve cercare il marito di lady frog scena molto romantica ammetto che è stata anche molto toccante a livello di mimo a livello di come posso dire di movimenti sapete che dentro questi personaggi estremamente gommosi di lattici prostetici come dicevo prima ci sono dei performer non sempre sono attori sono persone che riescono a comunicare con i loro movimenti senza dover parlare è una professione vera e propria e non è assolutamente facile per cui plagio ancora una volta alla dolcissima misty rosas che ha dato ancora vita a questo lady frog che io personalmente adoro e adoro questa famiglia mi ha fatto molta tenerezza come si toccano come si abbracciano in questo modo che tra l'altro non è neanche tanto poi umanoide in realtà mi ha toccato parecchio siamo solo inizio di puntare sono già cinque minuti per cui devo correre molto bello toccante anche un po commovente la vediamo stare insieme con queste uova e via dicendo e ce le liberiamo in realtà lui chiede al marito dove posso trovare mandaloriani come sapevamo dal capitolo 10 e dice nel bar nel classico bar la cosa molto figa che tutto questo ed è la scena che abbiamo visto anche nel trailer è estremamente marittimo si sente l'odore del sale ci sono quorren ci sono moncala tutti insieme con i berretti da marinaio con le tutone con le salopette da marinaio insomma è veramente un clima molto terrestre ma allo stesso tempo molto alieno figata totale globale che quando la razor crest casca in acqua viene raccolta da una mega gru che in realtà non lo è almeno io non sono riuscito non sono riuscito a trovare dettagli però è di base una una gru camminatrice e ricorda moltissimo la tecnologia che muove la tat la tct la tms insomma tutti questi camminatori questi quadropodi imperiale del primo ordine che abbiamo visto nella saga andiamo a questo bar lui entra logicamente il padrone del bar è un moncalamare che dice sediti lì io cerchi mandaloriana aiutami dammi qualcosa da mangiare da un po di zuppa a baby yoda va da un cuore e gli dice lui cerchi mandaloriani gli si avvicina gli dice ok ti costerà molto e via dicendo in questa scena mentre baby yoda mangia la zuppa abbiamo un ritorno ad alien in cui dentro questa zuppa è la cosa fighissima che lo si vede quando il moncala versa la zuppetta nella ciotola a un certo punto c'è una sorta di grumo molto grosso baby yoda gioca io lo chiamo baby yoda ma è il bambino abbiate pazienza gioca con col cucchiaio salta fuori questo polipo questo polipetto alieno che gli si impianta in faccia ed è un ritorno alla puntata alien della settimana scorsa molto carino procediamo finalmente si imbarcano vediamo se mi sono perso tutto no si imbarcano questa su questa chiatta e dopo un po succede che questa chiatta è come posso è abitata se vogliamo i lavoratori sono tutti quorren e qui devo aprire una piccola parentesi che è un'ulteriore figata i quorren li abbiamo sempre visti tra virgolette come cattivi nella 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 mitologia nel nel fandom un minimo li abbiamo sempre visti come cattivi tanto che esiste una puntata di the clone wars che in pratica è la guerra di moncala in cui i quorren combattono contro i moncala mari sott'acqua tra l'altro puntata molto carina in cui ci sono anche i separatisti comandati da un questo essere che sembra un uomo squalo bianco molto figo non ricordo il nome combattono per un discorso di egemonia di re loro vogliono un re quorren mentre c'è un giovane re moncala bla 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 non vi dirò nomi non me ne ricordo neanche quelli però questo è il contesto per cui i quorren e arrivano arriva alla repubblica a dare una mano a moncala perché sono sempre stati un po buoni diciamo nell'ambito di star wars anche perché nascono tra virgolette come mitologia da akbar che è un personaggio amatissimo per adesso in realtà i quorren anche alla fine della puntata poi si riuniscono e combattono con i separatisti alla puntata di del con wars per cui noi li sappiamo insieme per cui quorren non sono cattivi ma abbiamo visto anche l'inizio della puntata del primo capitolo in cui c'è sto quorren che è un bandito di base che gli viene seccata la testa con la porta vi ricordate tipo il diaframma della macchina fotografica per cui abbiamo io c'ho sempre meno quello che non è c'ho sempre questo attenzione attento perché è in mezzo a un sacco di ipotetici bastardi fatto sta che dice oh vuoi vedere come mangi un mamacor mamacor personaggio nuovo personaggio nuovo mostro nuovo e siamo a tre puntate con tre mostri santo dio che figata mostro nuovo completamente nuovo al momento anche se poi dopo lo vediamo lo vediamo poco le fattezze ricordano moltissimo sia il sarlacc che anche il la bocca del ragno bitorzoluto che abbiamo visto nella puntata 9 questa bocca mille denti anche il rattart ve lo ricordate il rattart insomma che tra l'altro il rattart e il sarlacc sono della stessa famiglia sono piante in realtà non sono animali per cui questo non si capisce fatto sta che lo ricorda tantissimo si capisce a quel punto lì che questi qua sono stronzi vogliono dargli baby yoda e qui c'è una cosa bellissima una cosa bellissima che spero che capiate ve la sto raccontando per cui la capirete in pratica questo mamacor mangia l'ovetto di metallo in cui dentro c'è baby yoda ok è chiaro vi ricorda qualcosa yoda nella puntata precedente mangiava le uova per cui gli succede esattamente quello che faceva lui da predatore nella puntata 9 nella puntata 10 molto molto interessante bellissimo questo cerchio che si chiude poi ne parleremo anche dopo perfetto a un certo punto vabbè disastro lui sta per affogare arrivano i mandaloriani questi mandaloriani che lui stavano andando che stava andando a cercare arrivano questi mandaloriani e troviamo il capo dei mandaloriani che è bo katan salto da un metro e mezzo kate sakhoff che è l'interprete nonché la voce di bo katan in the clone wars per cui bellissima anche qui un cerchio che si chiude stamattina aveva lanciato un bel twitter con scritto oh raga oggi è venerdì per cui già chi la segue e chi sa di questa cosa sospettava era certo che sarebbe apparsa io spera pensavo apparisse nella prossima prossima puntata puntata e invece va va qua direttamente va disastro insieme a due personaggi nuovi che leggo i nomi perché sono completamente inedite allora abbiamo cosca rives che è shasha banks vi ricordate il personaggio che abbiamo visto nel trailer con cappuccione personaggio nuovo che fa parte del clan dei kris ormai sono gli ultimi è quello che rimane dei grandi kris e questa cosa l'abbiamo scoperta sia in the clone wars che anche in rebels siamo rimasti tutti informati infatti più che una puntata di mandalorian sembrava una puntata di the clone wars rebels perché proprio c'è quella roba lì molto figo l'altro personaggio si chiama axe wolves ed è un personaggio comunque inedito entrambi hanno le armature mandaloriane lei ce l'ha femminile cosca mentre axe ce l'ha maschile molto simile a quella di boba fett ma ha il chest del mandaloriano e si vede questa 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 costaglia di armature varie probabilmente sono modelli che 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 vanno magari eccetera 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 vabbè il costume di bo katan oltre a essere bellissimo è estremamente accurato con quello che abbiamo visto negli altri prodotti animati molto figo qui seguo oltre a questa cosa veniamo a scoprire finalmente del perché din jarrin il mandaloriano non si toglie l'elmo perché è questo molto fan chi seguiva anche rebels e the clone wars se l'è chiesto fin dal primo momento perché non ti togli ecco semplicemente perché lui è un trovatello che è stato trovato e questo l'abbiamo già visto nel non mi ricordo che capitolo sia forse nel capitolo 8 nella nell'ultima puntata in cui vediamo la death watch la ronda della morte che abbiamo già visto in passato nei vari prodotti animati che lo salva perché lui fa parte della ronda e la ronda altro non è che un gruppo di religiosi mandaloriani estremisti che credono in questa via cioè nella via della vecchia mandalor sono dei guerrieri sono cazzuti devono essere temuti non si devono mai togliere il casco mentre bo katan in questa cosa fa un po di sarcasmo molto figo per il procechio della puntata e gli dice no guarda noi invece un'altra cosa di qua di là e lui non è proprio tanto d'accordo anche perché lui parte con chiedi ehi ma perché voi dove le avete prese queste armature esattamente come ha fatto con il buon caro cob vant e invece dicono sta minchia io questa ce l'ho in eredità da una vita dalla mia famiglia sono l'ultima rimasta dei clan crisi bra 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 per cui lui un po si placca e dopo vanno insieme lui però dice no io non ne voglio sapere mezzo perché per me la via è un altro e se ne vanno boom appena terra nel porto esattamente dove era partito arrivano da me vediamo questo tramonto bellissimo con vabbè non c'è niente arrivano un botto di cuore in incassato come delle poiane con come dei calamari sono dei calamari si incazza di te hai ammazzato il mio fratello ti faceva un culo incredibile e lui dice levatevi fa il fenomeno ma saltano fuori da tutti i buchi tra l'altro mi sembra che uno abbia anche un dl 17 di 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 17 di era 17 mi ricordo di lt 17 forse devo verificare che è il blaster dei dei ribelli nel momento arrivano di nuovo queste tre mandaloriane bim 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 in cinque minuti li seccano tutti per dimostrare quanto spaccano tutto e vanno a bere una birra una birra o quello che è mentre bevono la birra si spiegano si raccontano e lei gli dice senti e qui arriva ancora un'altra quest ogni puntata è una questa se tu mi dai una mano a rompere le balle agli imperiali che si stanno rubando e qui c'è tanto approfondimento sul discorso della purga che abbiamo già sentito la purga di mandalor insomma questo non me lo sono segnato ma comunque si fa capire a qualcosa che non abbiamo ancora visto ma che ci aspettiamo cioè il perché l'impero ha rotto i maroni a mandalor è un posto dove non ci si può andare ci dice il mandaloriano per cui insomma capiamo che dietro c'è della gran c'è crediamo che se possa essere il finale di questo stagione per cui gli dice se tu mi dai una mano allora io ti posso aiutare a trovare gli jedi perché lui gli chiede gli jedi e lei gli chiede tu sai cosa sono gli jedi e lui dice no io non ho mai sentito parlare e dice va perfetto allora siccome per la tua quest hai bisogno di andare da un jedi che ti possa aiutare a portare questo micro nano di viranocchio che possiede la forza bisogna che mi dà una mano a recuperare tutte le armi da un trasporto imperiale che partirà bla 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 dopo vediamo il trasporto imperiale che tra l'altro è una figata perché uno dei miei veicoli di rebels preferiti che è qui me lo segno perché non mi ricordo mai sto cacchio di nome è esattamente un incrozzatore di classe gozanti l'incrozzatore di classe gozanti è una vecchissima nave se vogliamo che abbiamo visto anche in episodio 1 durante il periodo della repubblica di sfondo è un veicolo che c'è sempre stato ma non è mai stato considerato più di tanto con rebels e the clone wars abbiamo cominciato a scoprirlo un po di più se vi ricordate in rebels era quella quella sorta di piccolo incrozzatore dove sotto le ali teneva i cacciatai ne teneva mi sembra 4 o 6 non ricordo c'è anche in rogue squadron in squadron scusatemi lo vediamo anche lì che subito all'inizio della storia del videogioco per cui c'è questa cosa qui tutto questo è assolutamente di un livello incredibile di cinema io sono sconvolto da questa cosa effetti speciali incredibile e con quella fotografia che solo la vecchia trilogia aveva non so come altro spiegarvelo ho fatto anche nella mia piccola recensione sulla mia pagina si prosegue qui comincia l'azione bellissima stormtrooper slappe e pacconi continue tra i vandaloriani bim bom bim bom bim bom e figo sta scena qui è assolutamente fighissima e vediamo finalmente arrivare di nuovo degli imperiali in divisa classica divisa da impero cappellino giacca e via dicendo ci sono tre tipologie due piloti e il non so non so cosa sia il comandante della nave che è titus welliver per chi non li conoscesse per chi non lo conoscesse titus welliver è il fumo nero di lost quest'attore che fa nel 99 99 per cento dei casi il cattivo perché c'è una faccia da cattivo bastardo che insomma è fatta apposta per lui ma non molti di voi sanno che è un mega collezionista di sideshow collectibles per cui lui è una collezione della madonna è anche iper tatuato non lo vediamo mai tatuato l'abbiamo visto anche in sonso vano che insomma è un mega cazzutissimo fighissimo nerdone che colleziona sideshow hot toys action figure della madonna ok per cui se lo cercate vi trovate ve lo trovate anche come collezionista e come fa lo youtuber presentando facendo unboxing di roba di questo tipo per cui è uno di noi di base molto bene perfetto allora arriviamo a un certo punto bocatan chiede dice oh titus ti spacco la testa io devo avere quello che è mio e i fan sanno che si riferisce alla dark saber per cui capiamo che lei in realtà e mi sembra che lo dicesse anche al mandoriano ma questo non ricordo scusatemi si capisce che il suo obiettivo è recuperare le armi che riesce a recuperare alla fine della puntata ma anche capire dove è gideon per ciucciarli e riportarsi a casa la dark saber che è fondamentale per lei e per la sua stirpe e per la rasta dei mandaloriani per cui sappiamo più o meno che la quest principale in realtà oltre a trovare baby yoda sarà anche risolvere questo grande problema con ciò che rimane dell'impero tra l'altro molto figo vi rivediamo gideon spietatissimo come al solito che dice lunga vita dall'impero ma abbiamo un'altra frase fantastica molto bene allora perfetto ci manca siamo arrivati quasi alla fine alla fine il bombone atomico due bomboni atomici sono che noi sappiamo di questo jedi ma sappiamo ormai chi è ma non ci è stato detto ancora e lei dice guarda se vuoi andare dallo jedi devi andare e qui sono due pianeti pianeta nuova pianeta nuovo e città nuova che in pratica è la città di calodan sul pianeta boscoso di corvus corvus tra virgolette anche il nome dell'astronave di battlefront 2 non so se sia legato comunque insomma vabbè giusto per devi andare e là c'è asso catano lo dice c'è esplosione salto dalla sedia gas totale e speriamo di vedere a sto punto per forza rosario dorso con la faccia arancione e con i lecchi meravigliosi bianchi e blu finito questo finite io finita la puntata gasato come una ponga scopriamo chi è la regista la regista è bryce dallas howard cioè con lei che ha fatto il capitolo 4 della prima stagione che era un po il capitolo più debole e che era piaciuto meno anche se in realtà aveva questa parte della tst meravigliosa di questo attesti beast quasi giurassico mostro con gli occhi rossi vi dicendo che a me onestamente era piaciuto molto ma era un po la se vogliamo la più la puntata più bella da un certo punto di vista più romantica più soft ma allo stesso tempo anche forse la puntata più debole vabbè bene anche oggi è finito sono 19 minuti di roba bello donna il saluto scusate la lunghezza ma non si può parlare di meno di una roba come the mandalorian se continua così io non ci arrivo alla fine bella voi e ci vediamo venerdì prossimo questa è la via